Roma che aveva perso 2-0 l'andata e che ha cominciato bene perché dopo 10 minuti il centrocampista della Roma Emerson con questo splendido tiro da lontano, un tiro molto da lontano, subito da speranze di qualificazione alla Roma che poi addirittura pareggia il risultato della gara d'andata 2-0 nel secondo tempo in apertura dopo 5 minuti con Cassano gol numero 16 in stagione per lui, però attenzione perché al ventesimo arriva il gol di Sonny Anderson che spegne le speranze della Roma, Roma batte Villareal 2-1 ma il turno...